Grazie a tutti. Avete lavorato nel campo che è quello che ci interessa di più in questo momento che è quello delle energie alternative, dello sviluppo delle energie pulite. Allora, ti pregherei di dirci appunto qual è stata la vostra esperienza, se è un'esperienza in qualche modo che vorreste ripetere, se anche per quel che riguarda la conoscenza dello spagnolo, se avete imparato qualcosa che prima magari non sapevate, se avete avuto delle sorprese e anche se ci vuoi dire quali sono le cose che vanno migliorate. Allora, intanto mi presento, mi chiamo Rinaldi Gioca, frequento l'istituto professionale Marconi di Prato, sono stato in Spagna, nella città di Mursia. Il nostro stage è consituito nell'assemblaggio di una macchina in un prototipo che funzionava utilizzando un pannello solare. Quindi riguarda direttamente la green economy, quindi lo sfruttamento di energie rinnovabili. Insomma, è stata un'esperienza interessante anche per quel che riguarda la lingua. Sì, anche per la lingua perché abbiamo affrontato un corso di 30 ore e dopodiché l'abbiamo approfondita anche nel, cioè vivendo comunque nella città e la consiglierei appieno appienamente. Torneresti a rifarla? Sì, sì. Riguardando al tuo lavoro futuro pensi che potrebbe essere questo, anche un'attività che ti interessa? Beh, spero di sì perché anche studio meccanica, quindi spero di sì. Bene, grazie. C'è qualcun altro di voi che può venire? Ah, ecco. Abbiamo, sì. Grazie. Eh, scossa io. Ragazzo è l'attenzione. Tu dove, come ti chiami? Sì. Eh, sono Nico Paluzzi, frequento l'IT Cerulli, istituto tecnico industriale di Giulianova. Eh, faccio, ho fatto parte del, del progetto Extras Plus di Vet Opencom Italy. Eh, sono stato in una cittadina sud-ovest dell'Inghilterra chiamata Pinton, eh, ho lavorato in un'azienda locale. Ehm, si occupava di, eh, era una cieglieria, quindi lavoro manuale, ehm, aiutante degli operai. Ehm, per quanto riguarda l'esperienza, eh, è stata fantastica sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista individuale, perché comunque, eh, mi ha aiutato a crescere, eh, a diventare più utonimo. La lingua? La lingua? Parlami già l'inglese, oppure? Eh, sì, sì, abbiamo parlato prevalentemente inglese, quindi, eh, si deve migliorare per forza la lingua. Ecco, a parte la lingua, a parte la lingua, che altro secondo te andrebbe migliorato? Mmm... Avere a disposizione più, più risorse per poter andare anche un po' in giro. Ehm, magari dare qualche indicazione in più su... Per il lavoro? Sì, forse è quello. Avere dopo qualcosa di compito. Ma per il resto è stato abbastanza soddisfacente. Eh, sostivo l'indizio. Grazie. Grazie. Molte grazie. Qualcun altro di voi? Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Alessio, vengo da Litis Galileo Galilei di Arezzo e anche io sono stato all'università Urrino. solo che io mi occupavo di un progetto differente perché il mio lavoro è stato quello di progettare una stazione meteorologica. Quindi io ho progettato la parte software, ma anche la parte hardware. E è stato un lavoro molto interessante perché a scuola non sviluppiamo progetti da zero, ma diciamo noi partiamo da delle cose già preimpostate, mentre qui invece noi abbiamo dovuto creare completamente tutto. E alla fine, insomma, vedere che l'ultimo giorno il nostro lavoro ha dato i suoi frutti è stata una bella sensazione. Insomma, un'esperienza che consiglieresti a tutti. Sì, sì. Proprio... E la rifareste. Sì, molto volentieri. Anche in altri paesi magari. Eh, anche quello sarebbe molto interessante perché a me piace anche imparare diverse lingue. Quando sono andato lì, io lo spagnolo non lo parlavo per niente. Ci hanno fatto due settimane di corso di lingua, abbiamo dato un esame e comunque alla fine è stato parlando con i tutor, con gli altri ragazzi che l'abbiamo appreso. E quindi adesso riesco a farmi intendere, riesco a capire, quindi... Che impressioni hai avuto sulla Spagna? La Spagna è un paese molto simile all'Italia. Mi sono ritrovato abbastanza bene. A parte il cibo, che vabbè, quello italiano è unico. No, però anche le persone, i rapporti che ho avuto, le mentalità che avevano loro, mi ci rispecchiavo molto, insomma. Qualche similitudine, ma anche una determinazione nel lavoro hanno in Spagna. Sì, 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 in Spagna hanno una visione del mondo molto precisa. Loro, appena sono arrivato, sapevano già dove mettermi, mi hanno indirizzato subito in quello che avrei dovuto fare. Hai trovato una buona organizzazione? Sì, sì, definitivamente. Va bene, grazie allora. Grazie a voi. Qualcun altro di voi? Buongiorno, sono Iaco Micheli di Prato e anche io sono stato a Mursia e ho partecipato al progetto con Rinaldi del Coce Solare, appunto, che sarebbe un prototipo di una macchina a tre ruote per una gara della Shell. E ho avuto anche la fortuna di poter guidare la macchina, anche se l'ho fusa. Perché corre troppo, perché il motore non è tanto peso. Perché ero troppo peso, perché il loro pilota pesa 50 kg. E io, anche se sono abbastanza piccolo, pesavo 60, 65. Poi il pilota ufficiale è stato Lorenzo, che è comunque più piccolo di me. E comunque è stata una bella esperienza per tutto, perché un conto è studiare a scuola le cose, finché la teoria è una cosa, però metterle in pratica è molto più soddisfacente. Vedere i risultati, vedere quello che fai a scuola serve. Quindi rifaresti tutto, volentieri? Sì, sì, rifaresti tutto da capo. Ma ti ha appassionato anche lo studio del mezzo? Come? Ti ha appassionato anche lo studio del mezzo? C'è una tecnologia nuova? Sì, sì, perché faccio anche meccanica a scuola. Faccio più elettronica che meccanica. Però vedere come poter costruire una macchina, costruire insomma, assembrare una macchina con un motore, una batteria e un pannello solare, comunque era abbastanza semplice la teoria. Però montare e fare tutti i pezzi, poi ci mancava un pezzo qui, bisognava ordinarlo. E quindi è stato bello e ho fatto una bella esperienza. Però insomma l'energia solare dovrebbe essere quella guardando al futuro? Sì, sì, infatti. Magari ora è un prototipo così per una gara e magari in futuro le macchine andranno davvero a sole. Probabilmente sì. Grazie allora. Grazie. Buongiorno, sono Gianmarco Orcelli, sono quello della canzone... Il cantante. Grazie, grazie. Io sono stato in Inghilterra, in un paesino a sud-ovest, a Torchi, e ho lavorato in un'azienda che installava pannelli solari su fabbriche, a case, di privati. Mi sono chiesto come mai ci fosse così tanto lavoro in Inghilterra che il sole non c'è. Quindi mi sono meravigliato come in Inghilterra si usassero così tanto i pannelli solari, mentre in Italia no. Vabbè. E comunque... Non si tratta di risposta. Comunque no, è stata una bellissima esperienza, sia dal punto di vista lavorativo, perché ho imparato comunque come ci si comporta in un'azienda, come ci si relaziona con i colleghi, con i superiori, anche la lingua. È stato utilissimo questo percorso, perché ho migliorato di molto il mio inglese, anche quello tecnico. Niente, lo consiglierei a tutti, se potessi lo rifarei anch'io, ma purtroppo... Cosa si potrebbe migliorare in questa esperienza? Guardi, io ho trovato tutto molto organizzato, tutto molto preciso, quindi non lo so... L'alimentazione? No? Quella, sì, purtroppo... Quella è proprio da cambiare, no? Da migliorare. Grazie. Salve a tutti, mi chiamo Niccolo Berti, vengo dalla scuola Guglielmo Marconi di Prato, io sono stato a Badacoff in Spagna e ho lavorato in un'azienda, si chiama Agestina Global, dove tratta le energie rinnovabili, soprattutto il biogas e la biomassa, che è attraverso, diciamo, sia interessante che utile per un futuro, che è un'energia del futuro, perché da una buccia di pomodoro che noi scartiamo possiamo riprenderci, ritrovarci un biogas che ha costi veramente bassi. Anch'io mi sono divertito tanto, è stata un'esperienza fantastica. La rifarei, se potessi la rifarei anch'io, ma non si può. Lo spagnolo era imparato? Lo spagnolo sì, riesco a intendere, riesco a farmi capire, quindi c'è nel senso ovviamente due mesi, magari fosse stato un anno, sarebbe stato meglio. Sarebbe stato meglio. Vi siete fatti degli amici? Sì, sì, certo, perché poi uno, insomma, la mattina lavora, perché poi dove ero io è una zona parecchio calda, faceva 38 gradi alle sette e mezzo la sera, la ottasi che laggiù lavorano soprattutto la mattina e il primo pomeriggio, poi la sera è libra, quindi riuscivamo. Poi in Spagna è tutto spostato in avanti, quindi la sera si fa tardi. Loro la colazione fanno alle 10, pranzo alle 2. Andava bene questo, no? Sì, sì. Benissimo. Uno dormiva di più. Far tardi non era un problema. No, 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 infatti. Eravate con i ragazzi di Teramo, a voi, vero? No, io sì. Toscana? Io ero San Benedetto e... Ah, no, ok. San Benedetto e... Della Bruzza. Sì, insomma. Quindi eravate a Bruzza. Toscana e... Sì. E pensando al lavoro che farai, diciamo, tra qualche tempo? Ma, eh, spero di... La speranza è l'ultima morire, quindi io spero di lavorare sull'energia rinnovabile perché mi sono trovato veramente bene. Bio gas, anche perché ce ne sarà per i prossimi 100 anni. Sì, no, infatti sarà... Che le riserve di bio gas siano davvero tante. Fino a vent'anni fa si pensava che sarebbe finito, invece ce n'è. No, infatti. Ce n'è tantissimo. Sì. Grazie a tutti. Grazie. E ringrazio Ettra adesso per questa opportunità. Salve, sono Lorenzo Giovannetti, vengo da Litis, Nardo e Ravinci di Firenze e sono stato insieme alla maggior parte di questi ragazzi a Mursia, in Spagna, all'Università Cattolica. Ho lavorato come due ragazzi mi hanno preceduto, ho lavorato a... ho testato in prima persona la macchina a energia solare e successivamente l'abbiamo rimontato in un'altra macchina. È stata un'esperienza veramente bella, anche se io studio chimica e con la meccanica e con tutto quello che è riguardato la macchina a energia solare c'entrava poco e nulla. Questa forse è stata l'unica cosa che... Comunque ha allargato le tue conoscenze, magari ti piacerebbe fare diciamo qualcosa che all'estero qualcosa che ha a che fare di più con la chimica. Sì, sì, ma io personalmente mi aspettavo uno stage più da chimico, però mi ha... È stata una cosa veramente bellissima a mio parere ristrutturare una macchina partendo proprio da zero. Anche il testare è stata una cosa bellissima, anche se come il ragazzo che ha intervenuto prima due o tre volte l'ho fuso anch'io e successivamente ho anche sciopato i pneumatici che purtroppo è andata male. Avete bloccato tutto il parcheggio? Quindi è escluso che chiamino altri ragazzi? Mi sta di sì, purtroppo. Purtroppo. Non gli accetto. Mi dispiace dirlo, però. E nulla. Questa esperienza la consiglio a tutti. La rifarei più che volentieri, però come già detto non è possibile. Non è possibile con le ragazze? Sì, sì, sì. Ci sono altri. Si attiverà il mondo sociale europeo. Va bene così, grazie. Qualcun altro che deve dire? Sì, no, vieni, vieni. Qualche danno tu dovrai fare. No, io danno non l'ho fatto, fortunatamente. Buongiorno, sono Mattia Romano, vengo da Rezzo, da RITIS Galileo Galilei. Ero anche a Murcia con loro, ma ho fatto un altro progetto perché ho costruito un pannello solare che girava in base da dove era il sole e quindi era una cosa per riuscire a ottenere il più energia possibile. È stata una cosa bella perché appunto a scuola se ne parla ma alla fine di concreto non c'è niente, non riesci a capire veramente che cosa vai a fare. Invece lì è stato un partire da zero da avere un'idea, un progetto, andare su internet, cercare i materiali, cercare tutte le cose, quello che conveniva, i prezzi, arrivare in materiale e poi iniziare a montarlo e fare il programma e tutto. La cosa bella e divertente è stato il rapporto con i tutor perché si rideva, si scherzava, cioè volevi proprio andare all'università a lavorare e tuttora ancora mi sento con questi tutor quindi è un rapporto che spero in un tempo di rincontrarli e almeno continuo a parlare anche un po' di spagnolo. Quindi si sono consolidate delle amicizie, non sono solo conoscenze ma qualcosa che continuerà nel futuro. questo forse è una cosa che arricchisce ancora di più perché ci fa capire che ci sono delle realtà diverse delle persone che magari hanno le culture diverse con le quali è bene incontrarsi e è bene stare insieme. Sì, sì, bellissimo. Grazie. Grazie. Sono Gianluca, vengo dall'IT Cerulli di Giulianova in provincia di Teramo e ho lavorato due mesi per un'azienda che installava pannelli solari insieme al mio collega Gianmarco. Volevo aggiungere poco quanto basta riguardo a quello che aveva detto prima. Quanto personalmente trovo che l'azienda che ci ha ospitato è stata molto disponibile a fornirci una risoluzione di diversi problemi in particolare l'orario dell'autobus. Comunque tutti i colleghi sono stati anche incuriositi da noi italiani perché una cosa che mi è rimasta impressa particolarmente era che in Italia loro soffrono il caldo giustamente perché se in Inghilterra si sa è sempre nuvolo però ci dicono come mai voi non sfruttate l'energia solare che ne avete tanta. Giustamente il futuro secondo me riguarda questo cioè l'energia solare sfruttata attraverso un sistema fotovoltaico anch'io ho fatto progressi nella lingua inglese e in ambito anche tecnico perché ho avuto una specializzazione proprio in questo settore. Molto bene grazie. grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.